Onoriamo i morti e ricominciamo a vivere. Queste le prime parole pronunciate dal cantante Sting dal palco del Bataclan a Parigi nella notte della commemorazione un anno dopo la sanguinosa strage dei tre terroristi nella quale persero la vita 90 persone. Alla serata hanno partecipato 1.500 spettatori tra cui superstiti e famiglie delle vittime. È stata di magnitudo 4.2 la scossa di terremoto registrata ieri alle 15.43 tra il Lazio e le Marche. L'epicentro è stato localizzato a 4 chilometri da Cumoli e a 9 da Arquata del Tronto. Intanto a Norcia manifestazione di protesta ieri dei cittadini che chiedono subito case in legno. Un uomo è rimasto ferito da un colpo di pistola durante una manifestazione a Portland e circa 200 persone sono state arrestate a Los Angeles. Questo è il bilancio della terza notte consecutiva di proteste contro l'elezione di Donald Trump. Nel weekend si prevedono altri cortei di contestazione in altre città americane. Se chiedono ci sono, oggi comincia una lunga marcia. Così Matteo Salvini dalla piazza Santa Croce a Firenze nel corso della manifestazione indetta per il no al referendum. Se vince il no si va a votare, ha proseguito il leader del carroccio e scelgono i cittadini, non Mattarella. Il governo della Colombia, il gruppo guerrigliero e delle FARC hanno raggiunto a Cuba un nuovo accordo di pace che include alcuni dei punti richiesti dal fronte di chi nel referendum dello scorso 2 ottobre ha respinto la prima intesa. L'accordo siglato a Lavana è stato considerato il migliore possibile da entrambe le parti. Il presidente Mattarella ha conferito 40 onorificenze al merito della Repubblica Italiana a donne e uomini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà e l'integrazione, per la promozione della cultura e della legalità e per il contrasto alla violenza. Si ferma sul 4-0 la goleada dell'Italia Liechtenstein. A Vaduz e gli azzurri sbrigano la pratica già nei primi 45 minuti grazie alla doppietta di Belotti e alle reti di Immobile e Candreva. Con questo successo la squadra di Ventura resta in vetta al girone appaiata alla Spagna anch'essa vittoriosa per 4-0 sulla Macedonia. Martedì c'è l'amichevole con la Germania. Sconfitta abbastanza pesante ma preventivabile per l'Ital Rugby di Conor O'Shea, gli azzurri sono stati travolti all'Olimpico dagli All Blacks per 68 a 10. Testa alta e guai a piangersi addosso, le parole del CT sono certo che andremo molto lontano. La prossima settimana altro test match per l'Italia che sfiderà Firenze e Sudafrica. Lewis Hamilton ha ottenuto la 60esima pole position in carriera, avvicinandosi sempre di più al record di 68 di Michael Schumacher. Nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, il tre volte campione del mondo, ha preceduto il compagno di squadra Niko Rosberg e il ferrarista Kimi Raikkonen. Quinto tempo per Sebastian Vettel. Nubi più compatte in serata al nord-ovest, con probabili piogge sulle coste di bassa Toscana e Lazio. Soleggiato a sud, con tendenza a qualche annuvolamento sulle tirreniche peninsulari. Temperature in diminuzione al nord, mari generalmente molto mossi. Nubi più compatte in serata al nord-ovest, con tendenza a qualche annuvolamento sulle coste di